Dal banco del mercato al banco degli imputati. Bistecche e salumi al centro della puntata ieri sera di Nessun Dorma, dopo l'allarme di lunedì dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha inserito le carni rosse, in particolare quelle lavorate, nei gruppi di alimenti cancerogeni. Dagli esperti in studio un invito a prendere questo messaggio con la necessaria serietà, ma senza demonizzare le carni. La condanna assolutamente no, però la soluzione con riserva, perché chiaramente un ruolo ce l'hanno, quindi non possiamo negare che un'attenzione alimentare è richiesta. E se è richiesta è chiaro che la pasta dà un buon senso nel controllo. Quindi sì, la carne rossa non la si può prendere come un qualche cosa a cuor leggero. La parola chiave della corretta alimentazione è sempre moderazione. E questo vale per tutti i nutrienti energetici e per tutti gli alimenti. E vale anche per la carne, la carne rossa. Non dobbiamo eliminarla, dobbiamo mangiarla nelle giuste quantità e nelle giuste frequenze, come ripetito poi dalla stessa dieta mediterranea. Asla e Coldiretti hanno parlato invece dei controlli sulle carni e della qualità dei prodotti nostrani. Se parliamo di additivazione, l'addittivazione è quel processo per cui vengono aggiunti degli additivi alle carni trasformate. Facciamo un esempio che tutti capiscono, il salame o la stasiccia. Ci sono degli additivi che tra l'altro in Italia hanno dei limiti che sono tra i più bassi al mondo e che le ditte, le ditte produttrici, controllano in una maniera che il cittadino non si immagina neanche. Perché ci sono addirittura delle bilance elettroniche che controllano i milligrammi di nitrati che vanno poi a finire nei nostri prodotti. Questa butad sicuramente ha gettato innanzitutto uno scompiglio nei consumatori perché sono chiaramente rimasti disorientati. E poi ci ha anche lasciati al libito in quanto noi siamo fortemente consapevoli della qualità dei nostri prodotti e delle nostre carni prodotte in Italia. In Italia gli allevamenti sono tra i più controllati al mondo. In studio si è poi innescato un dibattito acceso e animato fra rappresentanti del mondo vegano e sostenitori della validità nutrizionale della carne. Il 90% delle proteine nobili sono contenute nel mondo animale. Quindi il mondo vegetale non può sopperire e apportare il potere nutrizionale che serve soprattutto quando si è nell'età adolescenziale o infantile. Io lo trovo un pochettino imprudente dire che l'OMS fa una butada piuttosto che fa dell'allarmismo. Se lo fa qualcuno mi deve dire perché. Qual è il movente tale per cui l'OMS che è il massimo organo della sanità che abbiamo. Noi ci dobbiamo rifare a quello. Io non ho uno strumento migliore. La puntata si è chiusa con un intervento di Fabrizio Bonacina, produttore di carni che ha strappato un sorriso al pubblico. Io rio dalla Brianza, provincia di Como, weekend dei Santi, tradizione mangiare la cazzuola. Domenica a casa nostra si mangia la cazzuola con le verze dell'orto. Grazie.